Causa maltempo salta il Consiglio Comunale di Pescara organizzato per oggi pomeriggio in Piazza Santa Caterina sulla sicurezza urbana e rinviato alle 18.30 di venerdì 19 luglio. L'assessore Adelchi sul pizio ribadisce la priorità di governo sul fronte della sicurezza urbana e intanto alcuni cittadini propongono soluzioni per riappropriarsi dei luoghi pubblici in uno spirito di convivenza civile. La fattispecie della sicurezza è un elemento basilare, poi l'avamo messo all'interno del programma elettorale che per noi assume un ruolo strategico, ancora di più anche per noi come partito e come Lega. Oggi siamo qui a Piazza Santa Caterina che rappresenta uno degli elementi anche in questo momento con il bollino rosso, nel senso che è abbastanza attenzionata sia da noi come comune che dalle forze di polizia. Volevamo dare un primo segnale con questo Consiglio Comunale a tenersi proprio in loco, anche per ascoltare tutte quelle che sono le problematiche a parte i cittadini. Noi ci teniamo tanto alla sicurezza e in tal senso ricorreremo anche all'aiuto delle tecnologie. Ti anticipo che fondamentale sarà l'ausilio della videosorveglianza e delle telecamere e in questo senso da qui alle prossime settimane daremo delle importanti novità. Oscar Roberto e Giuseppe Ciano sono membri dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, fondazione ANMIG che ha sede proprio qui in Piazza Santa Caterina a Pescara e vivono la quotidianità di questo parco. Avete anche delle proposte che vorreste sottoporre all'attenzione del comune per cercare di riqualificare il parco vivendolo. Vorremmo appunto proporre innanzitutto attività culturali in modo che ci sia la partecipazione da parte delle famiglie, dei nonni che possono venire con i propri nipotini, frequentare il parco. In modo che possano appunto riappropriarsi un po' di questo bellissimo punto di verde, benché piccolo eccetera, però molto importante perché sorge tra i palazzi. Basta una vigilanza discreta ma soprattutto costante nel tempo, non serve mandare il vigile un giorno, due giorni e dopo, bisogna che ci sia una sorveglianza costante. Inoltre bisogna un pochino curare l'aspetto della polizia e poi anche la presenza di topi, quindi ratti, come vede ci sono le esche. Sostanzialmente viene frequentato il parco, però adesso si sente che tante famiglie si sono un po' impaurite e quindi il parco viene a morire perché se non è frequentato dai bambini, dalle famiglie e non ci sono anche attività culturali che avvicinano le famiglie, gli anziani, i bambini, i giovani, perché no? Muore, il parco muore perché poi man mano la gente si allontana e diventa preda di altre persone che magari hanno intenzioni diverse.